Buon pomeriggio, ben trovate, ben trovati. Dalla mia macchina ormai un luogo consueto, una location a noi cara e vi è anche piaciuta l'ultima esperienza. Adesso sono sempre nel parcheggio del Dipper Cup e vediamo se arriva qualche panda molesta. Mi sono un po' appartata quindi dovrebbe andare tutto bene. Sono in pausa pranzo, sono venuta da intimissimi e così vi mostro quello che ho preso. Approfittando sempre della promo, acquistando due capi lana e seta, rientra anche quella nella promo. E Kashmir, avete il 50% dell'importo su ogni singolo pezzo, non sul totale come avevo detto io in modo errato. Oggi ho scoperto che basta comprarne due per averne anche sul terzo pezzo, sul quarto pezzo e così via, purché rientrino nella promozione. Quindi, visto il tempo che non mi darebbe la possibilità neanche di registrare benissimo a casa con le luci così grigie della giornata, vedete, sono circondata da queste nuvole, proprio sta piovendo quella pioggerellina antipatica che si insinua ovunque, infatti anche i capelli ormai sono... dovrei andare dalla parrucchiera. Come vedete oggi indosso la maglia in Kashmir leggermente a collo alto, sotto il cappotto cammello sta perfettamente. Vi avevo detto che avrei preso il cardigan abbinato, purtroppo il cardigan c'è solo così a tubolare, vedete. Ho preso tra l'altro una taglia S il cui prezzo è 59,90€, con la promo perché non è l'unico capo che ho acquistato, bastano due capi per avere la promozione attiva. Sono presenti due varianti di questo cardigan, questo è privo di bottoni e ha il collo più sciallato. Ho preso una taglia S perché la M è troppo abbondante, secondo me, per me. Tanto deve rimanere aperto, non lo devo chiudere. C'è l'altra variante con il taglio, lo scollo molto dritto, senza questa morbidezza nel collo, con l'aggiunta dei bottoni color legno. A me piaceva più questa, da abbinare non solo a questa che ho oggi indosso, ma ho preso in cammello questo tubolare, vedete, maglioncino a collo alto, smanicato, tra l'altro rifinito con la seta nelle maniche. Questa invece, prezzo 29,90€, ho preso una M, perché la S per me è giusta, andrebbe bene, ma è di quelle lunghezze che se voi vi sedete, vi piegate, sale. Andava benissimo anche come giro manica, questa risulta un po' più morbida, ma tanto io la indosserò sicuramente sotto al cardigan, eventualmente sotto ad una camicia, di jeans, sotto alla giacca, la giacca strutturata, stroppiciatissima, della nuova collezione, vi lascio eventualmente la foto, credo di averla fatta. Sì, forse quella della foto che ho fatto, le riprese che ho fatto oggi da intimissimi, sono della taglia S, io invece ho preso la taglia M, che si vede meglio la vestibilità, ho indossato infatti nella giacca blu la taglia M, la vedrete, queste secondo me andranno a ruba. Questa è la giacca che ho preso in blu, in taglia M, perché per me veste molto bene, mi abbraccia, scende molto morbida su tutte le mie forme, vedete che bello il contrasto del blu col cammello, poi il blu andando incontro alla primavera è bellissimo, ho visto che le ragazze hanno pubblicato una foto di questa giacca, con sotto un bellissimo body in pizzo blu e bianco per la primavera, anche sopra a un jeans denim, a un pantalone blu, a un pantalone bianco, sono meravigliose le loro cose, una qualità superiore, approfittate veramente delle promo, perché almeno io intimissimi, lo sfrutto, lo uso, riesco sempre a sentirmi a mio agio indossando intimissimi, è un brand che mi piace, si presta ad essere indossato sia dalle mamme che dalle donne che devono andare in ufficio, sia a chi deve andare a delle cerimonie, io ho un matrimonio a giugno, ho visto il kimono di cui vi lascio qui la foto, secondo me indossato proprio con la sottoveste abbinata, oppure col pantalone sdrammatizzato con un bellissimo body, sono secondo me, almeno io ci andrei, abiti da cerimonia. Vi volevo far vedere stesso modello, sempre in tubolare Italia M, 29,90 scontato del 50%, la promo, vi dicevo, consiste nel fatto di acquistare almeno due pezzi di quelli rientranti in promo per avere il 50% anche su 3, 4, 5 pezzi, purché rientranti nella promozione, andate a sentire nei vostri intimissimi, perché io lo bazzico, ma l'ho scoperto oggi, la mia amica Laura, che è la capo aerea, mi diceva no, perché sai, a volte sembra che uno debba per forza far comprare se non c'è necessità, loro sono anche troppo corrette. Visto la morbidezza di questo materiale, di questi dolce vita, qui vedo lana e seta, eccola qua, vedete? Questa è lana e seta, un 95% lana e un 15% seta, sono molto sciccose. Questa, così per provare, l'ho indossata anche sulla giacca nera, che ovviamente non ho preso perché ne ho altre mie di giacche nere, però è molto sciccosa, questi sono capi che voi indossate come volete, in qualsiasi occasione, lavoro, tempo libero, svago, cinema, aperitivo, non passano mai di moda. Io mi ricordo di aver comprato un lupetto del genere da Sisley, quando mi piaceva Sisley, anni fa che compravo da Sisley l'inverosimile, e anche Zara li aveva fatti, che ricordano molto lo stile francese, sono molto sciccosi e raffinati, quindi questi li ho presi. Intimissimi cosa ha fatto? Per quanto riguarda la variante nera, ha lasciato in promo, nella promo del 50% del cashmere, e del lana e seta, questo nero senza maniche, e ha tolto dalla promo, quindi lo pagate a prezzo intero, a meno che non abbiate le due tessere, la privilege con lo sconto del 20% e l'altra non so come si chiama, l'avete al 10%, ha tolto dalla promo, quindi la pagate a prezzo intero, la maglia sempre in lana e seta, il dolce vita tubolare, c'era un cappello, l'ho tolto, il dolce vita tubolare nero, questo ha il prezzo di listino di 39,90 euro, con la deduzione della mia tessera privilege al 20%, l'ho avuto a 8,02 euro in meno, quindi a 31 euro invece che a 39, facendo proprio i conti della serva, è molto bello, molto caldo, vi dicevo il nero è comunque trasparente, io oggi ho un top, sono vestite in marrone, quindi ho un top color carne, color cammello, si vede tutto, dovete andare proprio tono su tono, se volete indossare queste, invece il tubolare che ho preso volta scorsa, con la vestaglia da camera grigio, che ha sempre la manica lunga, rientra nella promozione, e mi sembra che ci sia anche, in un bellissimo, color grigio antracite, che è molto molto bello, mi ha appena parcheggiato una macchina vicino, quindi io direi che la mia pausa pranzo è finita, fortunatamente i signori si stanno allontanando, la mia pausa pranzo è finita, quindi rientro, ahimè, in ufficio, oggi giornata, lo vedete, brutta, sono veramente così scompigliata, ma tra il tempo, tra il caos dell'ufficio, il mio aspetto oggi non è dei migliori, ma questo è, dai ragazze che è venerdì, e noi ci vediamo domani, ciao!